Ciao amici, lo scopo di questo video è quello di farvi ascoltare il dialetto della mia città e soprattutto di metterlo a confronto con quello di Pat o di Paola che invece è della città di Lecce quindi diverso dal nostro. C'è perché adesso? Tardinuestri è una città bellissima non per niente si dice che tre sono le città più bellissime, Bucarest, Budapest e Tardinuestri quindi avete venuto qua, perché questa città è da vedere, è un numero meraviglioso è un museo spettacolare, noi venivamo dalla Grecia, siamo fondati dalla Grecia, siamo stata la capitale della Repubblica Grecia. Prende, tenete l'ora in un museo, venivano dal Giappone per vedere la bellezza nostra, venite pure voi e venite soprattutto venite per il mare nostro. Voi c'è delle Seychelles, ma c'è venite qua, il mare è limpido, pulito, le spiagge bianche, le sabbie, manca nella palma, perché devo la mettiamci alla venite? Avvenite a vedere tutto questo che sto, o mare, o mangiare, voi fate mangiare la pasta e cozza che voi, manca ve lo immaginate. Tardinuestri è meraviglioso, amici miei, avvenite che vi aspettiamo. Ciao!